Musica Noi da anni ci siamo focalizzati sulla sicurezza, sulla security in genere e avevamo comunque un fianco scoperto che era quello dell'MDM abbiamo quindi deciso di valutare diverse soluzioni e optato invece per la migliore oggi abbiamo scelto BlackBerry perché ci permette di utilizzare i servizi completi a 360 gradi su tutto ciò che va a riguardare il mobile con una filosofia che sposa la nostra, quello pay per use quindi noi vogliamo assolutamente essere molto trasparenti con i nostri clienti erogare i servizi di alta competitività e garantire loro il massimo presidio con cui potremmo farlo con BlackBerry e tra l'altro questo ci permette anche di incrementare tutte le soluzioni che oggi abbiamo già che sono tutte comunque pay per use, tutte as a service e siamo anche gli unici in questo momento a rappresentare BlackBerry nel nord ovest grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti